Grande successo per il workshop di Action Group di Firenze. Erano oltre 500 gli iscritti all'appuntamento del 10 marzo 2014 dedicato al retail tra arredamento e contract, svoltosi nella prestigiosa cornice della Fortezza d'Abbasso. Parte il tecnico della giornata CRC-SRL Un'altra volta una partecipazione con Action Group, questa volta a Firenze. Perché? Ma è sicuramente un incontro di architetti destinati ad occuparsi nel nostro settore diretto, quindi retail, contract e hotellerie. Noi siamo un'azienda di produzione per cui l'abbinamento con il mondo dell'architetto che produce idee sostanzialmente è un ambiente ideale. Un commento sulla location e soprattutto sul forte successo di pubblico? Allora, la location è molto bella perché comunque Firenze è un ambiente d'eccezione per questi incontri e anche l'ambiente è molto molto bello. Per quello che riguarda la location quindi è perfetta. Ve l'aspettavate così tante persone? Quanti appuntamenti avete preventivati per oggi? Appuntamenti ce ne saranno una quarantina, già fissati. Diciamo che ci aspettiamo un grande afflusso di interesse, un buon interesse, anche perché contrariamente a Milano, che comunque ci sono sempre molti molti incontri, a Firenze non ce ne sono molti, per cui la concentrazione di interesse su una workshop di questo tipo è veramente interessante.